Allora ragazzi BMW X6 3000 gasolio in linea, stiamo lavorando per pulire gli ignatori, ci siamo fatti questo accrocchio sotto, bypassando il filtro del carburante, abbiamo votato per top diesel, non diesel innetto, macchina con 180.000 km, preferiamo non aggredire gli ignatori, ma lavorare col top diesel che lubrifica e dà comunque anche una percentuale di pulizia, quindi assolutamente. Ecco un po' l'accrocchio per cercare di non staccare la pompa, assolutamente bisogna far così. Bene, niente da dire, andiamo a fare poi tutto il ciclo e concludiamo. Grande Bardal!